Senti, ma lì, avete fatto un bel lauretto, quella baracchetta dellì alla fermata, ma dicono, ma dopo chi ci abita, le bestie, gli alimani, o chi ci sta? Ma perché quelli fino a qui vengono a pulire, lì da noi ci vengono a pulire, i scupini? Già arrivano, è che sono... Eh, perché sono velici le racce, le cianche, quindi io... Non bisogna segnalarlo. Eh no, eh! La fontana, la fontana. Ma la fontana è la pure lì perché si danno i ragazzini che la sera è tutto pieno così, da sedi. Eh, come no? Eccoci, la signora, tutti quanti si vuole a beverlo quella sera? La Polizia... Ma la scopata, la vede perché? Arrivano vecchi e se ne vanno. Ma chi ci sta lì? No, no, Lospenaria, 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 davanti al negozio qua, e di là siamo tutti fichide. Capito?